Amici, dal primo settembre si ne indegna in tutti i centri Fabri Store ma si ne indegna con vini di ottima qualità a prezzi da pollia ovvero già prezzo scontato Fabri Store meno 30% sul prezzo già basso su tutti i vini ripeto di alta qualità e allora nell'occasione ancora 30% sul tutto fino al 20 settembre più di così se muore tocchiamoci alla prossima, ciao!